Ma tu che ne pensi di questa operazione? Ma ti dico, questa operazione Fiat bravo e brava senza pensieri mi convince proprio. Pensa che per una brava si vogliono soltanto... 4.840.000 lire di anticipo e 330.000 lire al mese per 11 rate. E finito l'anno si può decidere se saldare, prendere un'altra Fiat o restituirla. Così si fa. Così si sta tranquilli. È davvero così. È esattamente così. Proprio così.